Sai dove siamo? No. Piombati in quella che era Los Angeles 12.000 anni fa. Com'è possibile? Non lo so. In lotta per tornare a casa. Nel tempo. Ora quello che conta è la missione. E contro il tempo. Ci è andata bene a sopravvivere finora, ma quanto durerebbe? In prima visione assoluta su Italia 1. Aiuto! La Brea. Ogni mercoledì dopo Chicago Fire. Grazie.